campagna stiamo raccogliendo un po di prodotti biologici tra cui questa verdura si chiama ortulaca nasce spontaneamente e faremo un'insalatina abbiamo lavato accuratamente la nostra insalatina portulata abbiamo tagliato le parti più tenere del rinamento cioè lecine poi un po di cipolla rossa di tropea tagliata molto sottile aggiungiamo alla portulata un pizzico di sale volendo anche un po di terreno un filo di olio extravergine d'oliva e mescoliamo per fare insaporire questo tipo di verdura è ricca di vitamine preziosi concentrati di un mese volendo possiamo anche aggiungere due semi di zucca per renderla più croccante e saporita e questa insalatina è facile da realizzare non ci vuole molto ed ha un tocco di allegria alle nostre tavole non ci vuole non ci vuole non ci vuole